Io ho fatto una diretta prima, hai capito? Otanenbau, giardino dal crostolo. Ci andiamo dopo a vedere il paese, Angelo? Ci avevo tutto il pomeriggio. Sì, ma... Eh, ma che aumenterà? Che inizia a piovere? Sì, la sera. Ah... Oh, la sera un po' Ah, ah, ah. Grazie a tutti. Grazie a tutti.